Stefania Orlando e suo marito Simone Gian Lorenzi si sono lasciati? La showgirl ha pubblicato un indizio su Instagram Stefania Orlando e il marito Simone Gian Lorenzi si sono lasciati? La ex geffina ha pubblicato una story su Instagram che a molti è suonata come un indizio, ma cosa ha scritto? Leggi anche, Blake Live l'incinta, quarto figlio in arrivo dal marito Ryan Reynolds. Quanti figli hanno e come si chiamano? Nomi, età e foto Stefania Orlando e il marito Simone Gian Lorenzi si sono lasciati? Stefania Orlando e Simone Gian Lorenzi stanno insieme dal 2008, ma solamente nel 2019 sono diventati marito e moglie Secondo molti, però, il loro matrimonio sarebbe in crisi, altri invece suggeriscono che i due si siano già lasciati Ma perché? Cosa è successo? La showgirl ha pubblicato su Instagram un aforisma che è sembrato a tutti un'ammissione sulla sua vita sentimentale Via stories, infatti, Stefania Orlando ha riportato un passo di Alessandro Amendola, la story della showgirl Su queste frasi sono riferite a suo marito Simone Gian Lorenzi? La crisi dopo il GFVip dopo il GFBip sono state tante le voci che hanno descritto il rapporto fra Stefania e Simone in crisi Tornata a casa, infatti, la Orlando ci ha messo un bel po' di tempo prima di riprendere i ritmi di una vita normale A quanto pare, però, la frattura che sembrava essere sanata, oggi è diventata più profonda che mai Al momento i diretti interessati non hanno commentato i rumors sulla loro rottura, ma, è tutto vero oppure no? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui Al prossimo video, ciao!